Spazio dello sportello del cittadino riservato all'ADOC Puglia, affrontiamo un tema davvero interessante che purtroppo ai noi è diventato triste protagonista nei nostri viaggi. Parliamo infatti di turismo, è una bellissima cosa, ma accanto al turismo parallelamente molte volte in aeroporto si verifica lo smarrimento dei bagagli e le cronache purtroppo sono piene zeppe di questi eventi tanto fastidiosi quanto dannosi. Ne parliamo con Giulia Procino che è una dei legali, l'avvocato Giulia Procino che è una dei legali di ADOC Puglia. Sì, negli ultimi anni complice l'intensificarsi del traffico aereo molto spesso capita che giunti a destinazione non si ritrovi il proprio bagaglio. In questo caso il consumatore deve rivolgersi a quelli che sono gli uffici preposti che si trovano in ogni aeroporto nazionale ed internazionale e redigere il cosiddetto PIR, cioè il rapporto di smarrimento bagaglio. Quindi dando tutte le proprie generalità e portando con sé tutta la documentazione che ovviamente il consumatore deve avere con sé. Quindi il biglietto che è servito per il viaggio, il talloncino che solitamente viene rilasciato al momento dell'imbarco della valigia, eventuali scontrini nell'ipotesi in cui siano state acquistate delle cose di prima necessità nei luoghi che si sono visitati, in modo che nell'ipotesi in cui il bagaglio non venga più ritrovato, almeno il consumatore ha la possibilità di chiedere risarcimento del danno. Nell'ipotesi in cui entro 21 giorni dalla compilazione del PIR, quindi dal rapporto di smarrimento del bagaglio, il bagaglio non si è aggiunto a destinazione e si intende smarrito. A questo punto il consumatore avrà la possibilità di scrivere direttamente all'ufficio relazioni clientela o assistenza a bagagli della compagnia aerea al fine di ottenere il risarcimento del danno. Questo accade anche nell'ipotesi in cui il bagaglio venga restituito al consumatore però in ritardo. Anche in questo caso il consumatore avrà il diritto di risarcimento perché è possibile che durante la sua vacanza abbia dovuto acquistare necessariamente dei beni di prima necessità e quindi sia in grado di dimostrare la compagnia aerea che ha sostenuto una spesa e perlomeno deve essere rimborsata. E anche nel caso di danneggiamento del bagaglio. Anche in questo caso può essere risarcito il consumatore che si vede appunto danneggiato il bagaglio. Di solito il risarcimento del danno è una cifra forfettaria perché la Convenzione di Montreal a questo proposito prevede che il risarcimento del danno sia non superiore a 1000 DPS cioè diritti di prelievo speciali che corrispondono all'incirca 1100-1160 euro. Il consumatore che si vede a smarito il bagaglio può quindi scrivere anche direttamente una raccomandata alla compagnia aerea per avere risarcimento del danno oppure potrà, si ritiene opportuno, rivolgersi direttamente all'associazione dei consumatori che proseguiranno con la pratica.